Siamo nelle palazzine di Teverola, la cosiddetta 167. Gli Aversani, come ricorderete, hanno detto no al centro commerciale all'interno dell'area delle X-Tex. Danneggerebbe il commercio. Eppure qui, come si può vedere, ci sono mezzi al lavoro che stanno scavando fondamenta in un'area di circa 7.000 metri quadrati, dove i lavori sono belli ed avviati abbondantemente. Tra qualche mese qui sorgerà, indovinate che cosa, un centro commerciale.